vediamo come compilare la domanda di mobilità 2021 2022 per un titolare di scuola di secondo grado scuola secondaria di secondo grado andiamo alla compilazione la domanda andando a cercare proprio domanda di mobilità secondaria di secondo grado e vai alla compilazione cliccando su vai alla compilazione si entra in una pagina informativa sulla privacy dove si clicca ho letto e accetto i termini e le condizioni legale per poi fare avanti andando appunto avanti e si entra prima in una pagina riservata all'anagrafe del docente titolare della scuola di secondo grado che deve fare domanda di mobilità facendo ancora avanti si entra nella sezione delle domande disponibili cioè le domande che è possibile inserire in tal caso è possibile inserire per esempio il trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado andiamo a vedere come inserire questa domanda si clicca su inserisci e si entra proprio nella compilazione nella sezione dedicata alla compilazione della domanda dove ci saranno tutte le aree le sezioni da compilare la prima sezione proprio l'anzianità del servizio che si va a compilare inserendo nella prima casella il numero complessivo degli anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza nel mio caso specifico sono 14 anni di ruolo nel dopo la decorrenza giuridica nel ruolo di appartenenza e si va a inserire il numero 14 nella casella numero 2 vediamo abbiamo due spazi riferiti proprio alla casella numero 2 una è riferita agli anni al numero di anni di servizio di ruolo prestato in altro ruolo in particolar modo solamente la scuola secondaria di primo grado perché per quanto riguarda se fosse altro ruolo della primaria la primaria va inserita nel pre ruolo dunque nella casella numero 3 invece la secondaria di primo grado andrebbe inserita qui ma nel mio caso non ci sono anni di altro ruolo nella secondaria di primo grado e dunque 0 stessa cosa se ci fosse una retrattività giuridica andrebbero inserite qui gli anni di retrattività giuridica non coperti da servizio nel mio caso non ce ne sono dunque si inserisce 0 ecco qui interito il numero 0 anche in questa casella nella terza casella eventualmente se ci fossero anni di tre ruolo di qualsiasi ordine di scuola svolti dunque sia all'infanzia sia la primaria sia la secondaria di primo grado che di secondo grado vanno inseriti qui gli anni di tre ruolo in questa casella vanno inseriti pure gli anni di ruolo prestati e alla scuola dell'infanzia la scuola primaria inseriamo comunque nel mio caso sono 13 anni di tre ruolo e dunque vanno inseriti in questa casella poi nella quarta casella c'è la continuità del servizio della scuola di titolarità per una domanda volontaria servono almeno tre anni per che venga maturata questo punteggio nel mio caso sono otto anni inserisco otto anni perché si esplode sempre l'anno in corso ricordiamolo questo non l'anno in corso non vale ai fini del punteggio della mobilità la casella 5 sono tre caselle quattro caselle inserite vanno compilate solo per i docenti titolari sul sostegno o comunque che chiedono il passaggio nella tipologia di posto sul sostegno dunque questi sono riferiti ai posti di sostegno nella fattispeggio della domanda come in questo caso una domanda volontaria sul posto comune non va inserito alcun riferimento in queste caselle la casella numero 6 invece è riferita al punteggio aggiuntivo di 10 punti qualora si siano fatti almeno tre anni continuativi di servizio in una data scuola senza aver prodotto domanda di mobilità oppure avendo la prodotta si è ritirata nei sensi nei tempi indicati in ordinaria ministeriale chi ha fatto almeno di questi tre anni nel settenio che va dal 2000 2001 2007 2008 deve inserire sì in questa casella non è il mio caso per cui tra il sì e il no io devo scegliere il no perché non ho questi tre anni consecutivi in questo settennio poi si passa alle esigenze di famiglia le esigenze di famiglia ci sono c'è la casella del ricongiungimento la casella riferita all'assistenza dei figli di sabbio tossicodipendenti in particolar modo molto importante sono le caselle 9 10 che sono molto diciamo ricorrenti per chi ha la casella numero 9 figli che non abbiano compiuto ancora sei anni si mette il numero dei figli in questa sezione è in questa sezione numero dei figli che si trovano di età completa tra i sei anni e 18 anni e ripeto il numero 7 invece il ricongiungimento per il trasferimento che normalmente si fa al coniuge per i coniugati e mentre per i non coniugati può essere fatto anche per i genitori poi c'è la casella dei titoli generali per la casella numero 11 quella più importante perché tra l'altro a 12 punti che è riferita al concorso ordinario pari o superiore a quello del ruolo di appartenenza per cui chi ha un concorso ordinario anche in altra classe di concorso rispetto a quella di titolarità ma sempre dello stesso ordine grado può mettere sì e dunque avrà 12 punti riconosciuti e ci sono poi altre caselle di titoli generali che qua vediamo per esempio sarebbe importante anche quella dei numeri di corsi di perfezionamento molto usuale o di master di durata non inferiore ad un anno si intende per corsi di perfezionamento quelli che hanno 1500 ore di durata e 60 cfu di crediti formativi universitari per cui qua io per esempio ne ho due inserisco due e così via anche un'altra casella importante la numero 17 riferita alla partecipazione come commissario presidente agli esami di stato per gli anni 1998-99 99-2000-2000-2001 si inserisce qui il numero io per esempio ne ho due inserisco due in questo in questa casella poi ci sono altre sezioni tipo quelle delle precedenze che andremo poi a fare un video a parte la scelta del tipo di posto è fondamentale perché se non si sceglie un tipo di posto non si potrà inoltrare la domanda per esempio in questo caso è una scelta di posto normale unica si mette uno a posto normale e così la domanda potrà essere poi inoltrata seguiteci perché faremo altri video seguiteci appunto sul nostro sito www.tecnicascuola.it seguiteci anche nei nostri canali social sia facebook che youtube ci vedremo presto per altri video un saluto a tutti quanti grazie a tutti